14 agosto dell'anno 2008 il Curriwi, Parasar chiama Dilan fino a questo momento ci sono stati El Pari, Stony Anatone, Maurizio Benedetta per la parte a Dilan, il Capitano Cecco e Mister Furo da questo istante lui è il gatto, io la volpe siamo in società di noi Lady Scentro 14 agosto dell'anno 2008 Ecco, Parasar chiama Dilan vi lascia in compagnia delle console Mickey V e Mister Fudo quello che i potenti non possono fermare una volta una volta esistevano le primi ricchi pagani gente che ballava i giorni di nuovo gente che ballava nella nostra gente che fumava per la pace per le varie famiglie per diventare uomo per diventare uomini con le ore quelli come noi la nostra famiglia la famiglia Dilan Come i popoli pagani hanno due animali, il gatto e la volta, mi c'è via mister Fudo, la console di Milano e chi non alza le mani non ha rispetto per questi due animali. I popoli pagani hanno due animali, baldi la mia pelle a piccoli io, come i popoli pagani hanno rispetto per questi due animali. Per 3, per 3, per 3, per 3, per 3! Per 3, per 3, per 3, per 3, per 3, per 4, per 4, per 4, per 4, per 4, per 4, per 5, per 5, per 5, per 5, per 5, per 5, per 6, 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 per 7, per 6, per 7, 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 per 8, 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 per Grazie a tutti Noi te l'abbiamo insegnato Battere le mani non è reato Non ci possono mettere le manette se noi battiamo le mani Welcome 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie a tutti 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 Forse Grazie a tutti 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 Voglio Grazie a tutti 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 Grazie a tutti